Radio Radicale, la Commissione Speciale ha eletto il suo Presidente nell'Onorevole Roberto Pella che appunto ha ottenuto la maggioranza dei voti della Commissione Speciale che da domani riunirà l'Ufficio di Presidenza per stabilire i tempi dell'esame del Decreto Aiuti Ter. Si aspetterà probabilmente anche un emendamento del Governo per aggiornare il provvedimento e si deciderà anche la data per la presentazione degli emendamenti. Ricordiamo che il Decreto Aiuti Ter dovrà arrivare in aula entro il 7, l'8 novembre, la conferenza dei capigruppo ha stabilito il 7 novembre e dovrà essere convertito in legge dal Senato entro il 22 novembre. Vedremo anche chi sarà il relatore del provvedimento. Queste sono le dichiarazioni del neoeletto Presidente della Commissione Speciale Roberto Pella che ci ha spiegato gli step di questo importante provvedimento. Buona ascolta e buona visione.